Benvenuti, benvenuti a Palombosila, siamo il nuovo bel grande sci club di Gansaloro Cisi, siamo andati da poco ma siamo già tantissimi in pochissimo tempo, abbiamo raggiunto quasi 100 tesserati, stiamo aprendo una scuola di sci, stiamo facendo tanta attività sociale, oltre all'uscita c'è le ciaspole, le alci di fondo, insomma chi più ne mette, tanta neve, bella gente, programma soprattutto le gare federali, le gare federali di slalomo gigante e niente, insomma siamo un bel gruppo, c'è Antonio, uno dei nostri maestri sicuramente, futuri maestri, futuri maestri, ok, siamo stati un maestro, uno delle nostre future speranze, uno del nostro mascotto e soprattutto ci danno insomma il futuro e questi sono i giovani e i bimbi, partiamo tanto, ci contiamo tanto, io lo chiamo il mio grillo parlante, cioè quello che mi dà tanti consigli, insomma il nostro amico Saverio. No, no, non è che va consigliato, è come dire, l'unione fa la forza, noi veniamo da un'esperienza diciamo trentennale e abbiamo avuto l'opportunità di ritrovare questi amici e quindi fare una cosa più grande, unirci come sci club e fare un unico sci club nella nostra città per avere più lustro e più spazio e dare più possibilità a tutti. detto questo siamo emozionati, siamo nuovi, vecchi ma nuovi, lavoriamo, c'è qui con noi pure il neo delegato, il delegato Fissi per quanto riguarda la provincia, il delegato Fissi per quanto riguarda la provincia di Canzato che è un grande e bello obiettivo del nostro sci club perché Francesco Sanfili, insomma tanto lavoro ci aspetta. Sì, certamente, grazie, oggi abbiamo fatto una bella sciata qua a Palumbo, abbiamo trovato una bella neve, le piste erano abbastanza buone, erano ben battute, abbiamo trovato pure qualche bella pista con neve fresca dove ci siamo divertiti abbastanza, qualche bella caduta pure, non ci sta male, sai cadendo si impara a sciare. Io voglio dire un'altra cosa come socio, sono Giovanni Mercurio, io spero che da questa piccola riunione, anche se altri soci non sono potuti venire per problemi, di divulgare moltissimo questo sport e nello stesso tempo fare pubblicità al nostro nuovo vecchio sci club, nel senso che di divulgare anche dove si prospettano tutte queste cose del nostro grossissimo programma. Ok, saluto la Calabria, saluto a tutti, a chi ama la neve in primis. Vi aspettiamo a Palumbo in tanti, vi raccomando, a Palumbo, sulla montagna, sulla Sila. Siamo, siamo un bel gruppo perché conteremo molto e potremmo fare molto di più.